Oggi la chiacchierata la faccio con Silvia Peluzzi, ciao! Sono contento che sei qui, 21 anni nata e vive in Brianza, quindi la tua passione per la musica nasce per aver frequentato un liceo in cui addirittura c'è stato un laboratorio di canto corale, avete fatto un tunnel, ma dov'è questo meraviglioso liceo che ha queste iniziative? Allora, il liceo è a Meda, la città dove vivo e si chiama Marie Curie e sì, in occasione del Natale di solito si organizza un talent che si chiama Curie's Got Talent e non volevo parteciparci ma poi un mio amico che suonava il piano ha insistito perché lo facessimo e lui suonava, io cantavo, siamo arrivati sul podio e da lì ho iniziato a... Hai anche studiato seriamente canto, è importante studiare, è più importante la tecnica quando si canta o l'istinto per far arrivare l'emozione? Allora, sono importanti entrambi, sicuramente è importante la tecnica per imparare a gestire la propria voce, però di certo quello che conta nella carriera di un cantante alla fine è arrivare al pubblico, arrivare alle persone e quindi l'istinto, vedere quello che il pubblico vuole è sicuramente importante. Siamo davanti a una ragazza che ha 21 anni, ma leggo quello che fa perché sono tante le cose, abbiamo capito, canta, studia, lavora come barista, studia ballo caraibico e attiva in ben due associazioni di volontariato di Meda la città in cui vive, giornate pienissime e secondo me la tua età è bellissima con questo impegno.